Una frase qua che sembra quasi uno slogan però molto semplice che è di fatto poi il cuore di quello che io ho trovato davvero significativo e interessante leggendo l'ebook che è poi questo, cioè il fatto che questo ebook che tratta in modo molto, come dire, semplificato, leggero ma se lo può permettere perché è figlio di studi molto approfonditi di uno sguardo molto attento sulla realtà da parte dell'autrice. Che cosa ci ha colpito? Ci ha colpito il fatto che oggi in modo particolare promuovere... non mi sentite? No, no, ti sei ma non ti si vede, non so se... Ah, ok, scusate, scusate, vediamo se riesco, se adesso riusciamo, se adesso funziona, sì. Sì, sì, sì. No, quello che dicevo era che di fatto quello che secondo noi è proprio, va nella direzione dell'innovazione ma a maggior ragione dopo quello che abbiamo vissuto che stiamo vivendo, il fatto di riuscire a tradurre dei contenuti teorici in azioni molto semplici alla portata di chiunque. E questo è possibile grazie sia a un linguaggio semplificato, sia perché effettivamente tutto quello che noi, tutto quello che il libro suggerisce, una volta che uno lo legge dice, caspita, ma non ci avevo pensato, eppure era lì davanti ai miei occhi. Per cui la cosa che secondo me è davvero interessante è che è la percorribilità, la fattibilità dei suggerimenti che poi risultano essere vincenti nella nostra quotidianità, cioè in quello che facciamo. Per cui io suggerisco di leggerlo perché è anche davvero piacevole e di lettura, una questione di piacevolezza, ma è una questione proprio di utilità, ma anche di praticabilità dei suggerimenti che vengono dati. Nel senso che si possono mettere facilmente in pratica, basta volerlo giocandosi una responsabilità in prima persona, nel senso che ognuno di noi può fare veramente la differenza.